Questi animali, uno arancione bianco e uno grigio bianco a destra, sono dei gatti domestici. Il loro nome scientifico è Fellis Silvestris Catus. Una volta in un viaggio l'ho fotografato con la mia fotocamera, ma per ora sto facendo il video. Sono animali appartenenti all'ordine dei carnivori, al sottordine dei carniformi, ma nella famiglia dei felini, come le tigri. E inoltre si dice una brutta gatta rappelare, nel caso una brutta gatta rappelare significa una cosa da risolvere. E si dice anche, quando il gatto se ne va, i topolini ballano. I gatti hanno la coda lunga e l'orecchio a punta, come la volpe. Se vedessero un ratto in corsa, lo inseguirebbero. Anche se vedessero una capiniera in volo, lo inseguirebbero, cercherebbero di chiaparli in volo. I gatti attaccherebbero anche un criseto, se lo vedessero scappare dalla gabbia. I gatti sono predatori, come le faine e le volpi. E inoltre ho una ghiana in mano. Questa non è per i gatti, è per il mio scogliattolo. Squeak Wilgax